Vittoria Fanalino di coda per strutture sanitarie, prima Ragusa e Modica con un punteggio di 97 rispetto a Vittoria, quota 57. Sono solo alcuni dei dati diffusi nei giorni scorsi e contenuti nel report regionale Audit Civico elaborato da Cittadinanza Attiva Tribunale per il Malato. A Palermo il documento è stato già presentato all'assessore regionale alla sanità, nei primi di maggio dovrebbe essere reso noto in provincia di Ragusa, ma alle prime indiscrezioni non piacciono ai volontari di Cittadinanza Attiva Tribunale per il Malato di Vittoria Scoglitti che spiegano così le ragioni di tale differenza. Il fatto che ci sia stato un punteggio più basso a Vittoria e più alto a Ragusa e a Modica, secondo me è determinato da due fatti. O a Ragusa e a Modica non è stato fatto un controllo così preciso come abbiamo fatto noi, oppure i manager, quelli passati e quello attuale, non si sono occupati di migliorare le strutture di Vittoria. Hanno privilegiato Modica e Ragusa e questo, se hanno fatto questo, è molto grave. A precisare che i dati diffusi non riguardano le prestazioni, ma le strutture, il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, Maurizio Cipolla. Non mi sento minimamente, come dire, turbato da questo punteggio che sicuramente potrà attenere a quelle che sono le strutture architettoniche, certamente non all'operato degli operatori tutti del Dipartimento di Salute Mentale, dei medici in particolare. Noi abbiamo gli scivoli per gli handicappati, abbiamo l'ascensore che porta al primo piano, abbiamo il bagno proprio per gli handicappati, per cui da questo punto di vista diciamo che siamo attrezzati. Probabilmente il fatto che mancasse la carta dei servizi, oltre che la carta igienica, era perché questa carta dei servizi era stata data a suo tempo a un po' tutta la cittadinanza e c'era nella sala d'attesa dell'ospedale questa carta dei servizi che interessava l'Aspin Toto, siccome l'azienda sanitaria provinciale è costituita sì dall'ospedale ma anche dal territorio, era l'ospedale che erogava questi opuscoli.